musica 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 3 animi delle truppe capito cos'è? bellissimo vado di cazzo si chiama guerriero ignorante sai che però chiaramente io sto guardando le abilità sto guardando la voce ah vabbè lo faccio un hero aspetta faccio vedere io come lo faccio adesso eccolo no merda con i capelli biondi no gli metto anche le stelline ok io ero turgo ero cultista il ritratto è assurdo aspetta guarda adesso sto prendendo le abilità allora in fritti sanguinamento camminare nell'ombra ah si può cambiare tutto? si se vuoi no mamma mia attacchi potenti allora adesso si passa elettrico anche le statistiche si possono cambiare si puoi proprio rifarlo da zero io faccio tipo full forza critici tipo ecco levo tipo no velocità che non mi serve a niente velocità un guerriero non serve a velocità faccio tipo e lo metto in percezione e levo costituzione per dare a forza ok ok penso di penso che vada bene così pugno pugno nelle mani pugno distruttivo ariete 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 perfetto penso di mettere armi una mano si si esperto di armatura what? oh cavolo c'è troppa roba questa parte la tagliamo ce la mettiamo troppo ah no lo metto ma come indigianato personalità buona stella carisma carisma al massimo lo metto ragazzi ma siamo scherzati rispondi una volta un tipo sei il migliore diventi il nuovo dio guarda con carisma al mille ti dà anche di l'emozione che era un punto dell'età what? ma è una passiva esperto di armatura ma boh dai sta bene si dai intanto io ho rimesso le abilità tranne una uguale a prima ehhh non è che di un abilità devo cambiare ehhh madonna che negro che sei c'è un abilità un talento che si chiama catapulto si ma mi devo leggere tutta sta roba no no va bene così dai accetto aspetta che dai lo faccio così god non lo so se farmi donna o maschio sai scelte di puff mi chiamerà mi chiamerete invece ma la biancheria l'hai cambiata però si ho messo quella con le stelline che è tredici perfetti c'è neanche cosa voglio dire guarda sono così io eh che dici per saiyan aspetta aspetta che per saiyan oh mio dio ma se mi un puffo al contrario guarda stico tutto blu rosso i capelli di rosso quasi ok perfetto merda sai l'anime afro jack esatto vai sei pronto? manchi te credo ah si forse si blackman e oiii prima fa vuoi vederla a sta parte oddio dai cioè non dice un cazzo eh però sai ormai l'ho vista 5 volte io sto perso inizi non ti piace la prima apetita del personaggio ricominci esatto no ma questa fa schifo dai lo finiamo più volte la prima volta per imparare la seconda volta la faccio in versione hardcore e tutto il resto hai visto l'ultima difficoltà com'è? no com'è? è che tu hai solo un salvataggio e se tutto il tuo gruppo muore hai finito la partita porco di f***o hai solo salvataggio nel senso puoi salvare solo una volta? si si se fai una cazzata tipo un discorso fatto male inizia da una super rissa boom è finito si dai lo facciamo magari la prima volta lo finiamo così quello finiamo in arrivo o quello che è insomma come viene chiamato è ancora carica possibile eh? come ancora carica? a me sta ancora cargando no io sono al video ah stai guardando ancora il video? ah ma va che vuoi ma tu sei andato avanti ah non mi dici niente guardo guardo fancù no no ho fatto un skip siiii devi spurti che se ne frega devi spetta tu fancù who cares fancù lo sai fare che cazz che cazzo? premi c what? really? si si cos'è Metal Gear Solid si non è possibile uguale ah ma parlano sempre in inglese si si magari sempre in inglese ah se puoi fai alto e vedi tutto quello che puoi pigliare su puoi scara scara odio va effetti sconosciuti va bene wow oh basta cazzeggiare eh dai iniziamo le serie staccheggiamo c'è un libro beh si sti cazzo conchiglia conchiglia ovunque sono fondi qui oh conchiglia poi c'è un altro niente un po' qua siamo venuti allora fai che questo gioco qui è molto molto interattivo eh ma veramente praticamente quasi tutto interattivo cioè per esempio se io volessi adesso vedi che è tutto bagnato qua stessimo combattendo si io potrei tirare una spella di elettricità e tutti i nemici in questa pozza d'acqua vengono elettrificate ah stessa cosa tipo se c'è dell'unto dell'olio con una spella di fuoco eccetera eccetera ho capito eeeh vabbè andiamo avanti un po' la magica si esatto come 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 si esatto vabbò e se ne vanno e se ne vanno ho fatto i diritti che poi hai fatto l'immagine che sei... biondo si ah torni giusto si esatto si ma Z allora adesso ho fatto la magn con due un po' male Se vuoi puoi usare già il tuo ariete, è fattissimo. Boh vado in fondo in fondo. BOOM! Perché li ho shottati quasi. Sì, sì. Dai. Era un 4, li ho shottati per questo. Ho il corpo più giusto. L'intenzione è sufficiente. Ok, faccio questo. Ah, non faccio. What? Ah si alza, ok. Di nuovo. Ok, è esploso. A posto, vai. Oh, bitch. Devo abbassare la musica. Sì, è molto alta. Con me la lengo proprio adesso. Cavolo, per un punto. Vabbè, pause. Certo. Certo. Ah. Ah. Spiegatti attacchi potenti. Attacchi potenti. Beh. Ah. Adesso qui abbiamo un discorso tra personale. Tu puoi rispondere a quello che ti senti di rispondere. Ah. Ah. Più la storia degnami. Ah ti senti fare la vita di morti. Ma non ciò come si trattiamo davanti per unaichenche ragione di discussioni. Allora si senti perfetto. Ok, ma compagnia. Poi, tu puoi rispondere a quello che vuoi. Ah che... No, Blackman, vai a cagare! Perché poi finiscono come statistiche nel tuo personaggio, come risponde. Eh sì, ti cambierà... Tipo un allineamento. Ah, ok. Indipendente e indipendente, posto. No, no, quello là... No, ti bevo seguire gli ordini. Sì. Allora, qui c'è un'altra parte del tutorial. Va bene, via. Va bene, ok. Diretto. Senti, c'è una bacchetta vecchia dello scudo... Si chiama bacchetta vecchia dello scudo di fuoco. Siccome tu usi le magie, magari... Ah, però ho le spade. It seems to be broken, it seems to be broken. It seems, it seems... Quella prendo, allora, bacchetta. Sai come spostavo io, Z? Ad uno. What? Devi... ecco, esatto, bravo. Cazzo è, la levitazione. Sì, esatto. Guardi umilegiosa, ossia. Ho! 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 Ok, basta. Hai quella spell per curarti, no? No, non l'ho preso. It seems to be broken. It seems to be broken. Ah, ecco l'inventario. Ah, se poi facevamo... ...de... ...de abilità... ...che puoi parlare con gli animali... ...questo ratto ci spiegava... ...de dove andare. Ah, figo. ...in posto gli oggetti che cliccando e trascinandoli. Ok. Ah, forse... ...così, braggio. Mi impediamo, guarda. Ho! 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 Ok. Sì, sì. Sì, io li charge, no? Li ho distruggi. ... ... Ok. ... ... ... ... Oh, c'è una mina, è vero. ... ... ... ... Allora, c'è una birra. ... ... ... ... ... ... Non è tutto Adesso come faccio? Vai a fuoco ancora? Si! Non c'è dell'acqua in giro Vuoi risuscitare? Ok sei meglio A te che ti rompo un po' di vita What? Why? Ah beh, abbiamo le possioni Ah, nello zaino Per la roba C'è anche tu lo zaino in teoria Si, si Tutte le cose inutili le metto là I libri I gorghi, la lente I've always heard There's typically more to a king's tune That meets the eye It could be a myth Or, could be our lucky day Eeeh A lucky day? Lucky day! Che voce da per explosivo Quick, va detto Dove cos'hai? E ti ammazzo! Andiamo Un attacco ogni cinquant'anni, però levo quindici Oh ma fai più DPS tu? Come un testo? Vabbè Dici? Dodici, io faccio quattordici Nove, dieci Sedici Undici, tredici E' una merda quello schifo eh Comunque ci stanno rovinando le spalle Un attimo No, no bro Boom Boom Boom, sì Sai vero che adesso non ci possiamo avvicinare Quello che c'è dentro è bruciato adesso Prendiamo il bar Prendiamo il bar Prendiamo il bar No no, sto bruciando Poi come funziona? Scusate Va giù Posso targettarlo purtroppo Fare così Ah però se faccio ruba vivo Magari una trappola Guarda quello che adesso vuoi distruggere Ssss Lirido Oh Ash ha due mani Eh addirittura Ah però se va però la mando a terra Invia a... Sioni Vuota Utile Utile Entri il modello Pfff 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 Prendiamo il Eh? Prendiamo il Pokémon Non spassi Ah Uguale Sss